Oggi ragazzi parliamo di property management, quindi gestire proprietà altrui in cambio di una percentuale. La prima o seconda declinazione di questo business, come dico sempre, questa nuovissima attività che mi permette costantemente di sfruttare immobili che non sono miei, ma dall'altra parte generare una vera e propria rendita ad essi senza acquistare questi immobili ad investimento zero o con un budget risorio, senza partita IVA eccetera eccetera, come dico sempre, ha due declinazioni principali. Quindi io ho la possibilità di andare da un proprietario, firmare un contratto di affitto e poi, ovviamente invece che viverci regolarmente all'interno, destinarlo agli affitti brevi pubblicandolo in maniera totalmente gratuita su portali come Airbnb e Booking, generando una plusvalenza. Quindi ipotizziamo 1000€ al mese di costi fissi di affitto e ne genero 3000 o 2000€ netti, per farvi un esempio stupido. Trovate tantissimi casi studio su il mio canale YouTube. Oppure la seconda possibilità è andare sempre da questi proprietari e dall'altra parte gestire la loro proprietà in cambio di una percentuale, quindi spiegargli chiaramente quanto sono belli gli affitti brevi, che con gli affitti brevi si possono guadagnare 2, 3, 4 o 5 volte tanto quello che si guadagna con gli affitti tradizionali, o che voi avete determinato ovviamente skill che vi permettono di aumentare i loro tassi di occupazione, quindi far sì che se di solito con il loro appartamento occupano 15 notti, con il vostro ovviamente intervento, vanno a occupare 30 notti. Quindi il doppio possono guadagnare di più e quindi vi danno una percentuale. Questo vi dà la possibilità di, ripeto, guadagnare dei mobili che non sono vostri. Non avete obiettivi, scusate, non obiettivi ma vincoli a livello contrattuale, non dovete firmare i contratti di affitto. Non avete investito nulla, dall'altra parte perché non pagate contratti di affitto, non avete acquistato l'immobile, non avete fatto aste immobiliare o chissà cos'altro, e dall'altra parte avete la possibilità di guadagnare in maniera slegata lo vostro tempo. Ora, ovvio che non guadagnate il 100%, ma guadagnate una percentuale, un 10, un 20, 30%, dipende dal tipo di servizi che offrite. Anche qui ho realizzato molteplici video dove spiego chiaramente un attimo che cosa è il PM, quali sono i servizi che potete offrire, eccetera, eccetera. Quindi oggi non parliamo di quello, ma parliamo un attimo della differenza tra PM e social media marketing, in questo caso. Quindi ci tenevo anche a sottolinearlo. Allora, partiamo da dei... anzi, facciamo ancora un passo indietro. Che cos'è l'SMMA? Perché molti, non conoscendo il mondo dei business online magari, o delle attività digitali, chiamiamole così, non conoscono che cos'è l'SMMA. SMMA è un acronimo che sta per Social Media Marketing Agency, quindi il fatto di creare una vostra agenzia di marketing, all'inizio ovviamente siete da soli, che, tra virgolette, aiuta delle attività locali, degli e-commerce o qualsiasi tipo di attività, o anche di persona fisica, eventualmente, a crescere con i social, a lavorare con i social, a guadagnare di più con i social, avere più vendita online. I tipi di servizi sono molteplici, in questo caso. Potreste gestire le campagne pubblicitarie di un e-commerce, in questo caso. Gestire le campagne pubblicitarie per un'attività locale, che ha bisogno di ottenere più clienti. Insomma, le possibilità, ripeto, sono molteplici. Io, per chi mi conosce un attimo meglio, avendo in questo momento 21 anni, e ripeto, qui di 30 immobili, all'interno del mio portfoglio, che mi generano, insomma, dei risultati molto importanti, che mostro costantemente su Instagram, per attività esorto, veramente a seguirmi. Ho avuto un importante background, un'importante esperienza con il social media marketing agency, anche se io non sono un fan di questa, per esempio, di questo acronimo, di questa definizione. Perché, dall'altra parte, quando sono partito, non avevo, ragazzi, 0 euro di esposizione, ma letteralmente 0. Per 0 si intende magari 200 euro, non lo so, una cosa così, non mi ricordo neanche, sinceramente. Periodi dove ce n'erano 0, periodi dove ce n'erano 500, insomma, comunque 0 budget. E, dall'altra parte, per finanziare questa attività, perché, oltre a lavorare comunque in PM, che può essere fatto ad investimento 0, come dico sempre, quindi facendo il property manager, io volevo, ho sempre voluto operare in sublocazione, perché avevo già capito, ovviamente, le potenzialità della sublocazione, il fatto di avere il controllo al 100%, di guadagnare, avere più responsabilità, ma, d'altra parte, guadagnare anche di più. Per questo è richiesto, ovviamente, un minimo di budget. Quindi, io ho sempre lavorato, tra virgolette, come social media manager, per poi, diciamo, risparmiare, in questo caso, del budget, per poi reinvestire, ovviamente, nella mia attività principale, cioè gli immobili, il fatto di prendere in affitto nuovi immobili, eccetera, eccetera. Quindi, l'ho fatto in passato e ho un grosso background e oggi vediamo le differenze. Allora, partiamo dalle basi. Tutti e due questi business, questi modelli di business, hanno svantaggi e, ovviamente, vantaggi. Tutti e due sono dei business di consulenza veri e propri, perché, dall'altra parte, voi siete una persona che dovrebbe essere percepita come una persona comunque esperta, che ha un pacchetto di skill, o conosce il marketing, o sa fare campagne pubblicitari su Google, su Instagram, su Facebook, sa lavorare con i social, o, dall'altra parte, sa lavorare con piattaforme come Airbnb e Booking, per esempio. Quindi, sa come lanciare un annuncio, sa come ottimizzarlo, sa come renderlo più visibile, sa come far ottenere più prenotazioni. Tutti questi trucchetti che, ovviamente, vi caratterizzano e vi fanno percepire come una persona esperta. All'altra parte, agli occhi di proprietari, ovviamente, che hanno un immobile e vogliono far renderlo di più, o, dall'altra parte, degli imprenditori, liberi professionisti e attività locali, che hanno bisogno di più clienti. Quindi, partiamo da questo concetto base. Dall'altra parte, c'è una differenza che caratterizza, dal mio punto di vista, la figura del property manager e l'attività del property management, che con l'attuale situazione di mercato, ragazzi, voi non avete bisogno di differenziarvi. Non dovete pensare alla competizione, perché semplicemente non ce n'è. Mentre, facendo SMMA, quindi Social Media Manager, ragazzi, ormai c'è una competizione folle in questa nicchia qua, in questo settore, perché è pieno di ragazzini giovani che sono bravissimi, io rispetto chiunque faccia comunque qualcosa, che si impegni, insomma, per raggiungere un obiettivo, ma, dall'altra parte, ci sono veramente tanti, tanti ragazzini che provano a vendere agli imprenditori costantemente i loro servizi, facendo chiamata freddo, mandando le email, mandando i loom, mandando i video, facendo le campagne pubblicitarie su Facebook, su Instagram. C'è veramente una mole importante di competizione in questo caso. E, dall'altra parte, questo è un problema, perché nel momento in cui il mercato è invaso da persone che fanno la stessa attività, per avere successo, chiamiamolo così, ottenere comunque dei risultati, dovete in qualche modo differenziarvi. Quindi far capire a un imprenditore o un'attività locale che, in chiamata, ti dice, molto banalmente, mi è capitato in passato, per questo vi sto portando questo video. Guarda, io ho parlato stasettimana con altri tre ragazzini come te. Cosa ti differenzia da loro? Perché dovrei scegliere te? Vi fanno questa domanda, ragazzi. Mentre, gestendo proprietà e altro in cambio di una percentuale, facendo i propri IT manager, ragazzi, in Italia non c'è assolutamente niente. Come dico sempre, un mercato ancora sconosciuto, è un mercato completamente vergine, nessuno sa quello che sta facendo. Su Arby, invece, ci sono ragazzi migliaia di annunci fatte da persone in maniera amatoriale, c'è persone che non conoscono la piattaforma, non seguono un protocollo, non seguono un metodo, il metodo, per esempio, chiave immobiliare, non sanno assolutamente niente. Prendono l'annuncio, ci fanno due foto buie con l'iPhone o con i Samsung, magari anche un pochino di qualche anno fa, e le pubblicano su Airbnb, senza avere condizioni di causa, senza capire cosa stanno facendo. Questo è un problema, perché dall'altra parte ci sono un sacco di persone che hanno un bisogno effettivo, reale, di ottenere delle prenotazioni. Sanno, dall'altra parte, non avrebbero mai preso quel loro appartamento pubblicato su Airbnb, il loro massimo interesse, e farsi disfruttare al meglio questa, ovviamente, piattaforma. Mentre dall'altra parte, per esempio, per concludere il punto 1, cioè il fatto che non dovete differenziarvi, perché dall'altra parte è pieno di social media manager, ma dall'altra parte non ci sono property manager, quindi la figura che interessa a noi in questo caso, quindi non c'è competizione. Dall'altra parte è molto più semplice vendere il servizio. Vi faccio un esempio. Ipotizziamo, io sto parlando con un imprenditore che ha, appunto, un'attività locale, ipotizziamo, e magari non ha mai fatto campagne pubblicitarie su Facebook, su Instagram, perché magari è un inconsapevole, semplicemente, o non conosce i canali, o gli hanno detto che, appunto, non funziona, oppure non ha voglia, non ha mai avuto tempo, eccetera, eccetera. Voi vi rivolgete a questa persona qua, come social media manager, non come property manager, ovviamente, e dovete, tra virgolette, oltre che a vendergli l'idea che voi siete le persone adatte, che voi siete le persone giuste, il fatto di farvi pagare, ovviamente, un retainer, magari da 500 a 1000, 1500 euro al mese, quindi cifre neanche proprio così scontate, dovete convincerlo doppiamente a, perché Facebook, perché Instagram, perché tutti questi social, il mondo dell'online è il futuro. Quindi, tra virgolette, la complessità che avete è il doppio. Dovete vendergli due cose invece che una. Questo, diciamo, è un problema fondamentale, perché, dall'altra parte, ripeto, dovete spiegare a queste persone quanto è bello Instagram, quanto è bello Facebook, quanto è bello Google, eccetera, eccetera. Perdete un sacco di tempo solo a vendergli l'idea dei social e poi tralasciate, tra virgolette, non gli spiegate perché voi siete le persone adatte, perché voi siete le persone giuste, perché meritate di farvi pagare magari 1000, 1500, quale potrebbe essere il suo introito monetario, la plusvalenza che potrebbe generare, tra virgolette, utilizzando il vostro servizio, eccetera, eccetera, eccetera. Ora non voglio entrare troppo nel tecnico. Mentre con, ripeto, Airbnb, se fate i property manager e lavorate, per esempio, con proprietari che hanno già l'annuncio su Airbnb o su Booking o su qualsiasi altro canale, o magari affittano la loro casa, così, passaparola, gruppi Facebook, eccetera, eccetera, e voi gli spiegate il potenziale di Airbnb, per il cliente, tra virgolette, per il proprietario, in questo caso che ha un immobile o più immobili, è un rapporto win-win, perché in questo caso, come spiego sempre anche alle persone entrano in tutti i percorsi, voi non dovete farvi pagare in anticipo per questo tipo di servizio, perché, dall'altra parte, lavorate con una percentuale. La vera forza è il fatto di guadagnare appunto una percentuale da quegli immobili in maniera completamente segata al vostro tempo, ma se, dall'altra parte, chiedete un retainer fisso, quindi un pagamento mensile di appunto un compenso fisso, dall'altra parte non sfruttate la potenza appunto di guadagnare con degli immobili che non sono vostri, perché non state guadagnando direttamente da quegli immobili, ma state guadagnando da un proprietario che vi dà un compenso fisso mensile. Quindi perde tutta, diciamo, dal mio punto di vista, la sua potenza, perché potreste guadagnare molto, molto di più se avete una percentuale piuttosto che un retainer fisso. Di quanto meglio potreste chiedere, magari chiedendo 200 euro al mese, insomma, potete guadagnare vi è sicuro molto, molto di più, chiedendo un 10, un 20, 25, 30% su, ripeto, delle proprietà che generano 4, 5, 6 mila euro al mese. Io queste cifre non sono, ragazzi, a caso. Andate a vedere i casi studio dei miei appartamenti su blocazione, in questo caso. Dei miei appartamenti che generano 5 mila euro, in questo caso, in un mese. Io potrei delegare questa parte a qualcuno, cosa che farò internamente con delle persone, ovviamente, del mio team, e dall'altra parte dare magari un 10, un 20% su quello che genera quell'appartamento lì. Quindi è molto, molto più semplice. Un rapporto win-win col proprietario. Dall'altra parte ci sono degli aspetti anche psicologici importanti. Perché? Perché un proprietario, molto banalmente, che deve pubblicare un annuncio su Airbnb e Booking, a lui o a lei non costa assolutamente niente pubblicare su Airbnb e Booking il suo appartamento, la sua struttura, la sua villa, eccetera, eccetera. Quindi, nel momento in cui vi trovate a vendere, ovviamente, l'idea di Airbnb e vendervi voi come property manager, le barriere, ovviamente, di difesa saranno molto più basse. Perché voi dovete far percepire la persona come anche un esperimento. Ipotizziamoci se è una persona molto, molto titubante. Un proprietario che ce le ha tutte. Non si fida di voi. Non si fida di Airbnb. Non si fida delle multinazionali. È scettico. Tutte ce le ha. Voi molto banalmente potete dirgli guarda, tu puoi pubblicare. Allora ve la faccio semplice, ragazzi. Ho già fatto dei video di vendita dove ci sono delle leve specifiche da utilizzare e non è una cosa che si risolve così su YouTube in due minuti. Ipotizziamo appunto, io devo convincere questo proprietario qua. Vado da questo proprietario e dico pubblichiamo il tuo immobile su Airbnb per 30 giorni e testiamolo. Tu innanzitutto non hai vincoli contrattuali. Né con me né con Airbnb. Secondo, non ti costa nulla pubblicarlo su questi portali. Cioè tu lo pubblichi ma d'altra parte non hai dei costi fissi. Non devi pagare nulla per pubblicarlo. Otteni molto banalmente un'assicurazione da parte di Airbnb fino a 800 mila euro, un milione di euro, più o meno più in realtà un milione di dollari. Non hai più rischio di morosità. Se vi rivolgete per esempio a delle persone inconsapevoli che non conoscono il mondo di Airbnb. Ho già fatto un video, ripeto, di vendita riguardo. Andatevelo a riprendere. Quindi, a differenza per esempio dell'SMMA, dove vi rivolgete a degli imprenditori, chiamiamoli così, o dei proprietari di attività, che non tutti sono imprenditori, però non concentriamoci sulle definizioni, e dovete ovviamente vendere l'idea su, o meglio, del fatto di fare un investimento. Quindi di investire magari mille, 1500, 500 euro, 2000 euro, magari in un mese o in due mesi, a livello pubblicitario o a livello di crescita social in qualche modo. Insomma, un'attività per crescere deve investire comunque un budget pubblicitario. Su questo non c'è dubbio. Qui, in altra parte, ripeto, le barriere di difesa sono molto più alte ed è molto più difficile, ripeto, vendere questa idea ad un imprenditore o ad un proprietario di un'attività o una proprietaria, piuttosto che a un proprietario che ha uno più immobili, lo deve pubblicare su Airbnb in maniera totalmente gratuita e al massimo potete dirgli può eliminarlo e tornare a fare quello che faceva prima senza avere nessun tipo di conseguenze in questo caso. Quindi, in altra parte, ci tenevo a farvi capire anche questo punto. Poi, l'ultimo punto che mi sono segnato qui, è molto più semplice portare i risultati, ragazzi. Per portare realmente i risultati a un'attività online, a un e-commerce che deve appunto fare campagne pubblicitarie, crescere sui social, vi posso assicurare che vi servono delle grosse competenze, un grosso pacchetto di skill a livello di marketing, a livello di, appunto, promozione là fuori a livello pubblicitario. Bisogna un attimo capire come scrivere una campagna pubblicitaria, come fare le campagne a livello tecnico su Instagram, su Facebook, come aumentare il budget, come scrivere il copy, di quali sono le lebe, per esempio, che hanno i potenziali clienti, cosa non li fa dormire la notte, che problema risolve quel prodotto o servizio. Farsi di spiegarlo correttamente in delle email, in del materiale pubblicitario, è veramente un casino. Molti non capiscono questa cosa qua. Si concentrano solo sul lato vendita, dimmi come devo fare a chiudere i clienti, ma poi chiudono, tra virgolette, questi clienti, quindi concludono la trattativa, ma non hanno le skill per portargli dei risultati, e quindi quel rapporto dura semplicemente un mese. Questo è un problema. Mentre con, ripeto, Airbnb, non sto dicendo assolutamente che sia semplice, che non richieda delle skill ovviamente importanti per pubblicare un annuncio, seguire un protocollo di lancio, far sì che siano i primi risultati, ottimizzare le keywords, eccetera, eccetera, e ottenere il massimo delle pronotazioni, oltre che creare una strategia di prezzo corretta, massimizzare ovviamente i profitti, ottimizzare l'occupazione, un sacco di cose, ovviamente. Non dico che sia semplice, ma avessi pure molto più semplice di avere delle skill, un pacchetto di skill a livello di marketing. Quindi ci tenevo anche a far passare questo punto. Poi, ripeto, non facciamo durare questo video troppo, se no comincio a parlare e finisce che diventa un video di 35-40 minuti. Come sempre, ci vediamo al prossimo video.